O più magari quelli di Arizona, dove era chiamato il Dave Cowens del deserto. Ancora Boikis, che ha un'attività fisica fuori dal comune, trova Sura con un po' di spazio. Partito. Lo scarico per Murphy. Gioca il pick and roll con Bob Sura. Il giocatore di Cleveland alza. Tutti giocano la palacrasso che più gli aggrada. Ed Empier, come detto in precedenza, un più che discreto stoppatore. 4 contro 1. È possibile mentre continuano le improvvisazioni di Arenas. Forse in questo momento è il giocatore più eccezzi e sono grossi, almeno nella strutturazione non boikinsiana. 5 di vantaggio per Portran. Taglio di Richardson. Questa finta e poi a lasciare in 3 un tagliante che attraversa tutta la difesa. L'ultimo che arriva gli fa un fallo leggero e gli dà 3 punti invece che 2. Non c'è da dire. Obiettivamente la grande catastrofe risaltare di... Una stagione da incubo l'ennesima. Nelle prime 7 per gli altri giocatori per conto proprio nello spogliatoio. Alla fine, anche in Europa, su panchine spagnole, boikins per Dan Levy. Il taglio di Sora ha po' pese. Sono usciti i bilanci, li hanno depositati in tribunale più o meno. Qui intanto, una volta si fa finta di 100 milioni di euro più o meno. Esatto. Omeriche risate di Donald Sterling a Los Angeles. Che con il Pedersen lungo la linea di fondo, ancora forzato e boikins inventa il passaggio, il campo aperto. Dopo quel clamoroso successo, il DJ della partita ha avuto la pessima idea di mandare sull'impianto notevole dell'arena a Auckland il pezzo bello. Tra l'altro di You, in the news, it's a small world. Poi chi si è andato dal... Il taglio di Wells. La palla viene strappata a Wells. Dan Levy per Sora. In transizione il tiro. Abbe di dare i risultati della notte NBA. Peccato che gli altri siano a 122.